ciao sono geluca bocci e siamo onesti cosa c'è di più bello di tornare a casa e vedere tanti bei pacchi da aprire per trovare nuovi giocattoli di audio e fotografia con cui divertirsi però sì qui parte un bel sospiro e sì ho una casa normalissima come la maggior parte di voi quindi tutti questi scatoloni tutte queste cose alla fine insomma io dentro casa non c'entro più quindi il video di oggi è molto particolare perché in realtà è un video di vendita ho scelto due cose che riguardano il mondo della fotografia anzi del video per essere precisi e tre cose che riguardano il mondo dell'audio che insomma devono lasciare spazio ad altre cose siete curiosi vediamoli insieme prima di iniziare con questa carrellata di prodotti in vendita vi voglio chiedere una cosa che tanto tempo non vi chiedo ditemi nei commenti quali tipi di contenuto meglio quali format ti piacerebbe vedere sul mio canale perché effettivamente questo video si distacca un po' io faccio solitamente sempre recensioni prodotto oppure parlo di un'idea Mario un concetto che vuoi un pochettino andare a spolpare questi invece sono video un pochettino diciamo più di relax per rilassarvi un pochettino ascoltando qualcuno che mi dice che ha una voce molto sexy molto rilassante in realtà più che sexy quindi ascoltatevi ma ditemi effettivamente cosa ne pensate di questa video vendita e quali potrebbero essere i format che vi piacerebbe vedere sul canale di Gianluca Bocci ma iniziamo con questa vendita dal Fayutec G6 Plus il gimbal per dirlo bene in inglese che ho già recensito vi rimando la prova qui sopra con cui mi sono trovato davvero molto molto bene l'unico problema è che lui ha un carico massimo di 800 rammi siccome il carico massimo di 800 grammi va bene per la mia Canon EOS M50 ma non va bene quando utilizzo quella che è la mia fotocamera principale che è la Panasonic GH4 che mi sta inquadrando in questo momento quindi mi sono comprato, l'avete visto ogni tanto appunto sulla mia scrivania il Fayutec AK2000 quindi stessa azienda ma il modello che regge fino a 20 kg vi porterò la recensione di lui ma giustamente che ci faccio con due gimbal dentro a casa e quindi mi vendo lui lui è in garanzia fino al 17 settembre 2020 completo di tutto quindi della sua valigetta, del suo amministrativo, dei suoi accessori, istruzioni e quant'altro in condizioni effettivamente pari al nuovo l'ho utilizzato per 4-5 lavori e poi è rimasto lì tranquillo dentro la sua valigetta e come sempre trovate il link qui sotto se lo volete comprare nuovo altrimenti io lo vendo spedizione inclusa a 180 euro quindi insomma risparmiate un bel centone ma andiamo avanti secondo prodotto sempre legato al mondo della fotografia anzi, del video sono i miei microfoni non so se i più attenti di voi hanno sentito che la mia voce è leggermente cambiata perché io prima utilizzavo i Boya da cui il detto Boya chi molla BYVM6 non ho fatto una recensione su di loro ma li trovate messi alla prova in un video che molti di voi hanno trascurato ve lo mando qui sopra sul microfono al Shure ma è molto interessante per un confronto tra più microfoni tra cui loro sono fantastici la capsula ha un'ottima resa ma siccome vanno con le batterie stilo che succede? mi è successo purtroppo varie volte perché facendone troppe ogni tanto mi perdo che mi sono dimenticato di mettere le batterie ricaricabili e che succede? devo aspettare quell'oretta per fare un minimo di ricarica prima di iniziare a registrare al che sono passato ai Rode che sto utilizzando in questo momento anche su di loro farò la recensione abbiate pazienza tante belle cose in arrivo sul canale loro cos'hanno? vanno tramite USB-C e possono essere utilizzati mentre sono in ricarica quindi effettivamente non perdo più quei buchi io registro in realtà nei buchi tra impegni del mio vero lavoro della famiglia e quant'altro quindi non mi perdo più un'occasione per registrare quindi mi vendo anche loro loro però hanno più di due anni però in realtà sono tenuti benissimo come tiene vente un persona che ci tiene alle sue cose sono completi della loro ricetta sono completi di tutti i loro accessori dicevo garanzia scaduta e quindi li vendo a 90 euro sempre spediti fino a casa vostra se invece li volete nuovi link sempre qui sotto in descrizione ma passiamo a delle cose che riguardano il mondo dell'audio iniziamo da lui il TV Max questo schermone erorme con pixel art questa matrice di 256 pixel se non ricordo male ma è anche uno speaker 2.1 quindi due vie più woofer può fare da sveglia può fare da segnapunti insomma tutta la sua recensione completa ve la rimando qui sopra l'ho utilizzato per un bel po' di tempo per far vedere quanti iscritti ho adesso sono passato al piccolino il dito che qualcuno mi diceva questo è troppo pochiano sì è vero effettivamente è davvero bello grosso e mi si era rotto assistenza con la di boom me l'hanno mandato nuovo quindi sì è aperta la confezione ma soltanto per potervi mostrare che c'è è funzionante ma è nuovo nuovo anche se come garanzia direi boh perché mi hanno mandato un nuovo documento di trasporto senza data vi ce l'ego una fotocopia della spedizione forse dovrebbe andare bene come garanzia quindi invece di 170 euro spedito a 100 euro vi ripeto ragazzi ha davvero 5 minuti di vita ma andiamo avanti con un pezzone forte non tiro sulla scatola perché la scatola sarebbe qui sotto questo stermino qui eh sì è la sheet è lo sheet Jutenheim non so se lo pronuncio bene perché sarebbe un nome in fondo vichingo è stato il mio amplificatore ufficiale per cuffie tantissimi watt tantissima potenza lo do via soltanto perché ho comprato un nuovo DAC anche su lui farò la recensione chi di voi attento l'ha già visto vi mando qui la scheda su instagram mi raccomando seguitemi come gianluca.bocci perché ha preso questo DAC che ha anche ingressi microfonici che ha anche DSD che è davvero fantastico per tutto e ha delle uscite cuffia a bomba quindi non mi serve più Jutenheim utilizzo un unico dispositivo sono contento di tenere acceso un unico dispositivo io prima tenevo acceso l'amplificatore integrato a valvole quindi un mare di consumo energetico invece quest'altro tengo acceso soltanto lui unico dispositivo come sempre è in perfette condizioni l'ho appena mandato alla Pro Audio Italia per far revisionare il tasto di accensione quindi appena revisionato ma garanzia scaduta come sempre se lo volete comprare lo volete comprare nuovo vi lascio il link al listino della Pro Audio Italia che lo vende direttamente oppure lo prendete a me sempre spedito a 250 euro che ragazzi un bel risparmio e tra l'altro su tutto quello che vi vendo vi arriverà a casa anche con la dedica firmata di Gianluca Bocci che in fondo tra qualche anno sarò famosissimo e varrà tanto no però vabbè vi mando anche una dedica con un bel augurio di buon ascolto ultimo pezzo questo è un pezzo molto particolare che l'SSSMSLSP100 che sembra un codice fiscale questo piccolo amplificatore valvolare vi rimando la prova completa qui sopra ed è introvabile in Italia si trova comunque tipo sui store stranieri tipo Aliexpress se non sbaglio sui 70-80 euro io ve lo vendo a 50 spedito ragazzi è come nuovo ma anche lui è garanzia boh perché in teoria la SMSL dovrebbe capire che è un prodotto nuovo è stato appena lanciato quindi vi arriva a casa la novità ma siccome non ho nessuna ricevuta d'acquisto insomma difficilmente avete qualcosa se vi chiedono dovete dimostrare l'acquisto quindi garanzia boh ma è perfettamente e assolutamente funzionante bene ragazzi non so se sono bravo come imbonitore come venditore insomma comunque mi aiutate a svuotare casa vi portate a casa ottimi prodotti quasi nuovi o comunque tenuti con tutto l'amore di cui io sono capace a un prezzo davvero eccezionale e comunque grazie a tutti oggi dovrebbe essere domenica quindi sì ragazzi buona serata buona domenica buon inizio di settimana buon tutto e al prossimo video e al prossimo video Grazie.